Uno dei due rimasti praticamente dei fondatori della cinquantesima licenza nuova, allora le differenze tra le prime edizioni, ecco diciamo i giovedì delle prime edizioni, come erano? Ma i giovedì delle prime edizioni eravamo in 8-10 e era il lavoro principale quello di scovare macchine, automobili perché non ce n'erano, tant'è vero che noi si andava su con un camioncino, i corridori facevano un fascio dei loro indumenti, con il cartellino lo buttavano sul camioncino, il camioncino arrivava qua e quando venivano qua avevano i loro indumenti da mettere sopra, un giorno che è piovuto tutti questi indumenti nuotavano dentro del camioncino, si figuri lei, in ogni modo così era, e mi ricordo in particolare che questi corridori venivano da lontano, un direttore di una squadra di Vicenza, dopo la corsa ai suoi allievi disse sentite, uno, due, tre, questi tre quali porto io perché abitano molto lontano, e voi cosa volete? Andate lì, ma dice, ma guardi che dobbiamo andare a Vicenza, ma per voi è una sciocchezza, cosa volete? Adesso invece quando arrivano sono tutti coccolati, messi bene, lisciati e così via, allora era un po' più difficile, e adesso la corsa, guardi, prende praticamente un anno, perché in maggio bisogna fare già domanda con cauzioni di 500 mila lire per la corsa dell'anno venturo, sì che noi in maggio cominciamo già, si comincia già ad avere il lavoro per il prossimo anno, io mi domando, come faranno quelli che devono ancora fare la corsa, prenotare ancora una corsa prima ancora di fare quella lì? Comunque noi siamo fortunati perché la facciamo in primavera, è tutto qua, un gran lavoro, un lavoro magari sottile, ma occorre anche quello, perché il giorno, che si va a Vicenza, quando la gente ce n'è anche troppa, nei giorni precedenti, quando c'è il lavoro, è l'ora che manca, è carente anche la mano d'opera, tutto lì, noi siamo arrivati fin qui, io quest'anno ho fatto poco o niente, perché così mi abituo al riposo e alla pensione, vedo che i giovani adesso vanno e sono felici e contenti, hanno delle grandi idee e anche sanno realizzarle. Allora lo sentiremo cantare al karaoke, non è inizio, sì, senz'altro.